buongiorno sì lo so ho fatto shopping si è capito no e oltretutto stavo andando in centro perché dovevo prendere alcune cose dovevo prendere la collezione mensile di brochet e mi arriva un messaggio un sms per due giorni c'è lo sconto del 25 su tutta la linea sefora collection quindi la linea classica di sefora che non è mai scontata quindi non dovevo andare a sefora ma sono andata ovviamente la cosa volete che parto per mostrarvi le cose da sefora che non stavo parlando ha ovviamente scontrini alla mano quindi tutto tutto lo scontrino di sefora è questo qui e di vostro cosa ho preso questo si dice bottino sapete per quelle cose non ho visto neanche io tipo i campioncini o così campioncino boscia make up break up cool cleansing oil olio struccante della boscia interessante questo lo proviamo poi dopo ho voluto provare queste due maschere se pedalina sefora classica che aspettate perché a prezzo pieno vengono 5 euro e 90 a me di questo caso le pagate 4 euro e 40 allora questa è la maschera mousse stavo leggendo tutto scritto in inglese che bellano eccola qua anti blemish anti imperfezioni maschera mousse tutto scritto in francese o in inglese ciclo minuti di posa anche per chiusa bene 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 benissimo e basta che questo la proviamo inutile che faccia e poi questa invece che è la perfezionatrice di pelle a questa e al pompelmo maschera peeling al pompelmo stesso prezzo anche questo sono curiosa di provarla poi ho voluto provare ancora chiuso qui nel primo assieme questa mattita per occhi questa qui che dice di essere una mattita occhi 12 ore waterproof il colore che ho io black black lace matt esatto perché c'erano anche quelle glossi ma le glosse non piacevano vorrei anche aprirla per farvela vedere che intanto che cerco di aprirla dice apri qua ma impossibile per me vi dico il prezzo sarebbe costata signori 8 euro e 90 ma io l'ho pagata 6 euro e 60 ma è possibile aprirla senza usare i denti non è proprio la scelta migliore ma io qua ho questa dite che potevo farlo prima ma no è più bello così ecco qua perché ve la volevo mostrare ecco allora così mi sembra bella poi sono un amante delle matite nere mi sembrava bella poi sì col fatto che waterproof era da provare assolutamente e poi ho lasciato la sciccheria per ultima perché la palette holographic nude allora è questa che adesso comunque tolgo dalla confezione questa nei colori nude esatto che costava 10 euro e 90 invece l'ho pagata 8 euro e 10 e non avendo le fabbici a portate di mano la limetta per unghia perfetta perché c'era lo scotch e adesso l'altro perché devo assolutamente farvela vedere sicuramente dato che olografica forse la telecamera un po impazzisce comunque è magnetica se si decidesse ad aprirsi ecco voilà ottio che danno eccola qua allora lunar aura nova meteor a ster stella vi farò una recensione approfondita però guardate qui che lavoro queste stella è come piace a me non esagerata ma neanche comunque vi farò uno swatch approfondito con una recensione non è esagerata cioè non è quelle fun ma è quelle che scusate illuminante che danno un pochino di luce ma che volevo assolutamente provare perché io queste palette mini ora ve lo dirò meglio mai di questo solitamente mi trovo molto bene e adesso io direi di se riesco a sistemare tutto scontrino via perché ve l'ho già detto e andiamo avanti andiamo avanti allora ho preso delle cose vi faccio vedere prima i brocci ma sì dai i veloci scontrino scontrino del libro che dove sei non è questo sarà questo esatto allora omaggio guanto e sfogliante questo lato è morbido e da questo lato è ruvido da usare sotto la doccia proviamo sinceramente ha la forma di un guanto da cucina anche come imbottitura però magari è valido non sto a fare polemiche prima del tempo e tra gli omaggi ecco anche il gommage questo solito gommage corpo con polvere d'albicocca questo mi piace e poi sinceramente non lo compro mai perché c'è spesso in omaggio e quindi ne approfitto poi dopo che cosa ho comprato dovevo prenderli non vedevo l'ora che uscisse perché dovete sapere che io amo il siero della linea serum vegetal quello stebo vegetal e quello lo stringi fuori ma ultimamente l'avevano tolto dal commercio perché dovevano rifare la formula adesso che è uscita io dovevo assolutamente prenderlo allora questo è il siero siero equilibrante antiossidante con polvere di tè boreale oil free per pelle mista o grassa ed è fatto così quindi non ha più l'erogatore ma ha la pipetta ho provato a testare un attimo in negozio mi sembra che assorba davvero immediatamente poi ovviamente vi farò una recensione approfondita e comunque questo che è un 30 ml sarebbe costato 14,95 ma io avevo lo sconto del 40 e quindi l'ho pagato 8,97 e finché ci ero con le novità ho voluto prendere sempre della stebo vegetale anche il trattamento perfezionatore effetto blur con polvere di tè boreale quello che dovrebbe andare a opacizzare immediatamente alcune zone del viso oppure tutto il viso in caso di pelle molto lucida trattamento perfezionatore effetto blur della formula senza silicone ultraleggera che levi la grande pelle e opacizza istantaneamente allora intanto 30 ml costava 9,95 ma io con lo sconto del 40 l'ho pagato 5,97 euro la confezione è questa qua l'applicatore piccolino solo che io ho fatto lo swatch qua adesso devo fare tutto questo qui mi è sembrato abbastanza leggero che sobbe velocemente e oltretutto ha si ha un profumo di di erbe e quindi anche questo vi farò una recensione approfondita e poi per arrivare ad avere dei 15 euro quindi un bollino in più sulla tessera ho preso anche un balsamo labbra al cocco che costava un 95 prezzo pieno ma quello al cocco è il mio preferito è semplicemente per arrivare ai 15 euro in modo da avere un bollino in più sulla tessera per arrivare allo sconto ma siamo labbra classico ok direi queste cose via con anche il signor scontrino perché ve l'ho già fatto vedere e adesso vi mostro cosa ho preso da bottega verde perché anche lì mi è arrivato un sms ieri e quindi non potevo non andarci però ovviamente da bottega verde non prendo mai la borsa normalmente infilo sempre nelle altre borsine perché ed è costa tanto 4 centesimi, 5 centesimi 4 la piccola, 5 la grossa no grazie uso una mia borsa e ho preso alcune cose scontrino e omaggi che sinceramente non ho ancora guardato quindi li guardiamo assieme allora crema piede rinfrescante ottima già provata fondotinta matte lunga durata ok a provare argande marocco crema viso piede normale secche non è proprio la mia comunque sia è una novità crema corpo lamenta questa ve l'ho già recensita ed è fantastica poi altro omaggio che era questa molto natalizia la palla di natale con dentro due prodotti della linea straordinaria che trattamento viso antirughe multiattivo e trattamento viso effetto lifting multiattivo beh da provare non dice nient'altro vabbè comunque sia queste le proviamo e la palla è molto carina per farci anche delle decorazioni ci sto già pensando e questo era un omaggio infatti il prodotto non destinato alla vendita vi faccio vedere invece cosa ho preso con gli sconti perché mi è arrivato un sms dove potevo avere uno shampoo a 2 euro e 99 un prodotto scontato del 60 e uno del 50 quindi vi mostro prima di tutto lo shampoo 2 euro e 99 invece di 7 e 99 sto leggendo lo scontrino questo che è lo zenzero shampoo purificante fortificante con le state di zenzero cappelli da purificare da rinforzare la linea lo zenzero solitamente mi piace molto quindi questo l'ho voluto provare profumo sai di zenzero davvero ok eccedento sul serio poi con lo sconto del 60 invece ho preso questo olio sublime ristrutturante caratine cashmere cappelli fragili che si spezzano è questo qui col dosatore 100 ml costava 18,99 ma io l'ho pagato 7,95 lo sto avvicinando anch'io perché sennò non riuscirò mai a leggerla applicare qualche goccia di olio sulle medie lunghezza e sulle punte dei capelli ideale sui capelli bagnati dopo averli tamponati per un trattamento intenso e per facilità nella piega ok proviamo profumo ve lo dico non riesco a identificarlo ma io farò una recensione più approfondita e con lo scontro del 50 ho ripreso la matita occhi sì matita occhi sempre quella nera quella tenuta estrema aspettate matita occhi automatica waterproof tenuta estrema ho dovuto leggere perché che costava 12,99 ma ascoltata del 50 l'ho pagata 6,49 ve l'ho già recensita semmai riuscirò ad aprirla ma qui ci vengono in aiuto le nostre fidate li metta per unghie forse vedete avere tutta la confusione sul tavolo alla fine c'è sempre qualcosa che mi serve a portata di mano eccola qua non mi puoi togliere tutta la plastica grazie quella con la parte in gomma ed è quella automatica io questa l'ho adorata davvero è fantastica quindi ve la consiglio quando è in offerta la quantità non c'è mai scritta quindi non vi so dire quant'è però è ottima e no non è tutto perché sono passata da Tiger che volevo fare un giro volevo cercare alcune così alcune le trovate altre no le buste soppresa non le ho prese perché erano solo quelle finalmente hanno scritto bimbo e bimba finalmente almeno sappiamo cosa c'è ma ho deciso di non prenderle perché bimbo e bimba non mi sembrava il caso e c'è andata qualche settimana fa mia mamma e c'era nel reparto delle offerte tantissimi prodotti ci sono andata io c'era niente cavolate però ho fatto una super acquisto perché nel reparto delle offerte c'era questo guadernino con il tigrotto a righe quel piccolino che veniva 2 euro a prezzo pieno invece era in promozione tra quelli a 1 euro ma io avevo uno sconto dall'app avevo lo sconto quaderno da 1 euro quindi guardate quanto l'ho pagata esatto 0 quindi mi è andata bene come offerta eppure io questi qua li uso per le recensioni sono davvero fantastici poi è pratico comodo lo metto ovunque e con questo è davvero tutto allora fatemi sapere da che prodotto vi interessa che inizio a provare per recensirlo quale vi conosisse di più qual è l'offerta migliore se anche voi avete approfittato di queste offerte e niente se vi è piaciuto il video così folle veloce lasciatemi un like iscriviti al canale mi raccomando anche di cliccare sulla campanella lì sotto e soprattutto un like per i miei swatch e di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao